Vittoria fondamentale in chiave salvezza in serie 2 di basket per la Caffè Mocambo Chieti che ha battuto 73 a 59 in trasferta l'Umana Chiusi. Decisivo l'inizio del terzo quarto con il break realizzato da Ancelotti e compagni che a conti fatti è stato decisivo. Coach Stefano Raiola ha portato ben 5 uomini in doppia cifra. L'NVP è il rientrante Daryl Jackson, 33 minuti sul perché, 18 punti, 4 su 6, 67% da 3, molto bene anche Andrea Ancelotti, 13 punti, soprattutto 10 rimbalzi e 28 di valutazione. In doppia cifra anche Serpilli, 12 punti, 10 a testa per Martino Mastellari e Saverio Bartoli. L'Amo Cambo Chieti ha anche ribaltato nei confronti di Chiusi la differenza canestri rispetto alla gara di andata.